Circa il 30% dei lavoratori di Metro Italia Cash & Carry di San Giovanni e Tatino ha incrociato le braccia stamani per lo sciopero nazionale indetto per protestare contro il disinteresse dell'azienda verso i propri dipendenti. In concomitanza con lo sciopero nazionale dei 4.200 dipendenti dei 48 punti vendita del gruppo del Cash & Carry Metro Italia, circa il 30% dei 72 dipendenti di San Giovanni e Tatino si è senuto da lavoro. La protesta indetta dalle tre sigle sindacali di CGL Cisle Will ha diverse motivazioni, tra queste la disdetta del contratto integrativo dal 1 aprile scorso sostituito unilateralmente da un regolamento integrativo aziendale, gli orari, l'organizzazione del lavoro nonché la ristrutturazione e le chiusure dei punti vendita. Elena Zanda, sciopero qui alla Metro di San Giovanni e Tatino, con l'azienda bisogna tornare a discutere. Assolutamente, anche perché l'azienda ha abbandonato il tavolo della trattativa non si sciopera solo a San Buceto, si sciopera in tutta Italia perché questa è un'azienda che anche a livello nazionale ha una storia di relazioni sindacali che la nuova dirigenza di questa multinazionale ha deciso di interrompere. In una realtà sindacalizzata da poco tempo, hanno sottolineato i tre sindacalisti è un fatto positivo che una rappresentanza significativa di lavoratori abbia preso parte alla protesta con grandi sacrifici anche di natura economica. Davide Frigelli, una trattativa partita sette mesi fa ma partita subito in salita? Partita subito in salita e poi la Metro ha levato la maschera negli ultimi tempi specialmente e sentenziando che non aveva nessuna intenzione di rinnovare un integrativo alle medesime condizioni. Di fatto non negano un integrativo ma è come se lo facessero perché richiedono ulteriore flessibilità in un regime già straflessibile tra aperture festive, domenicali e quant'altro. Credo che richiedere ancora più flessibilità e pagare di meno sia inaccettabile. Se lo sciopero di oggi dovesse rivelarsi infruttuoso, hanno concluso i tre sindacalisti se ne prospetta un altro di otto ore che sarà indetto in maniera autonoma. Era importante dimostrare all'azienda che i lavoratori, i loro dipendenti sono preoccupati. L'azienda ha chiuso ogni tipo di rapporto sindacale con le parti sociali a livello nazionale ma facendo questo ha chiuso i ponti e ha chiuso le porte in faccia ai propri lavoratori. Grazie.